buonanotte ragazzi quattro raggi che grano di segnalazione del prossimo video dovevo fare una reaction, un'ennesima reaction a TAPFONE featuring Cabo Plaza di Gopagagno che è un inedito al suo prossimo album che uscirà breve, Sinatra quindi subito andiamo a fare la reaction però piccola premessa con un'ultima puntata che vi ho la canzone di Cappelli Rossi per esempio ve l'ho messa velocizzata per problemi di copyright e mi è arrivato lo stesso, una segnalazione di copyright quindi non so se è un attorno velocizzato per vedere se mi arriva di nuovo oppure taglierò dei pezzi, quindi buona visione ecco il vero che è bomba, bomba, bomba sky, è il ferro in mano, sga, i soldi in mano, sga, il cellulare sga, tu chiama mi su traffo, chiama Milano, leva quel ferro da mano, sto trappando come un narcos, i soldi li faccio che io salerno a Milano, ha quel ferro da mano, si troppo bravo ragazzi come to me guys BOMBA 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 Tutto perfetto flow di game Perfetto Tutto perfetto beat Fantastico La prima sondastrofa si che è di capo pelota Bellissima però Piccola pecca che la La strofa di Cioè dura poco 40 secondi Quasi come sono le fit Però io ho fatto un Trovo il testo davanti qua Ehm Però io non capisco una cosa ci sto qua davanti Ehm dice Capo non penso chiedersi Fuendo una vuzela Ora noi andremo su google Vediamo cosa è VV Zela Ah sono le trombette quelle Eh si sono impressione Comunque la canzone Ehm 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 Mi raccontano come te iscrivetevi Se vuoi iscrivervi Se vuoi iscrivervi su Instagram Ehm 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 Ehm